Buonasera ragazzi, piccolo video soltanto per dirvi due cosine veloci veloci, poi vi lascio stare, intanto lì c'è mia sorella. Due cose, la prima cosa è che i video saranno due video a settimana, per ora abbiamo fatto il mercoledì e il venerdì, ma potrebbe cambiare il martedì e il venerdì. Io non so perché invece di guardare qui, guardo lo schermo, sono un coglione. Dette queste poche parole, ci vediamo domani mattina alle 10 per il prossimo video che verrà pubblicato appunto alle 10, come tutti il resto dei video, e buonanotte.